Ti sei mai chiesto qual è l'autostrada più lunga d'Italia? Sto parlando ovviamente della A1 che è stata inaugurata nel 1964 e che copre una distanza di ben 700 km e ci sono voluti ben 8 anni per costruirla e collega a tutte le città tra Milano e Napoli quindi Bologna, Firenze, eccetera quindi immagino che moltissimi di voi l'abbiano percorsa ed è anche banalmente chiamata Autostrada del Sole